Cari amici, salve a tutti. Vi faccio vedere adesso da chi siamo comandati. Lei ha visto la sentenza del Tribunale di Firenze che ha reintegrato la psicologa che era stata sospesa dall'ordine perché non vaccinata. La motivazione della sentenza è stata che gli effetti del vaccino ad oggi non sono prevedibili per la vita e la salute, così il giudice Fiorentino. Cioè la magistratura sostanzialmente interviene dicendo che i vaccini sono pericolosi. È una sentenza shock. Ecco, insomma, questa volta non è un Novax ma è la parola del Tribunale. Di solito per cultura politica, per formazione, sono molto rispettoso rispetto ai lavori dei magistrati. Però questa sentenza è sinceramente irricevibile e priva di ogni evidenza scientifica in contrasto con tutte le indicazioni della comunità scientifica internazionale. È una sentenza di cui sinceramente dobbiamo vergognarci. Ma come, speranzi, dicevi che bisognava fidarsi ciecamente della magistratura, tu ne avevi il massimo rispetto, e adesso dice che dobbiamo vergognarci. Ma dov'è la coerenza?